Bene, voto per Dino Baggio, entra in aria Baggio, Roberto Baggio finto, tiro, Dino, gol! Dino Baggio, al trentottesimo del secondo tempo, va in vantaggio di Caglia con Dino Baggio. Ed è un gol che si fa tirare un respiro di sollievo. Sommerso dagli abbracci dei contagni, richiede l'olazione di San Siro, impietrito dall'emozione. Parigo Sacchi, ecco Dino Baggio, Roberto Baggio che fa sfidare il pallone, va al tiro, tiro che viene ribattuto, ma Cettino che può mettere dentro a botto sicura, uno a zero. Trentottesimo del secondo tempo e danno in vantaggio con Dino Baggio. Attenti ora, ancora sette minuti da giocare. Grazie. 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 Grazie.